Sono 16.302 terremoti registrati nel 2022 sul territorio italiano nelle aree limitrofe dalla rete sismica nazionale, una media di 44 terremoti al giorno, quasi un terremoto ogni 30 minuti. I terremoti più forti sono stati localizzati al di fuori del territorio italiano o in mare lungo le coste, analogamente a quanto accaduto anche nel 2021. Eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 5.0 sono avvenuti in Algeria, Bosnia, nel Golfo di Policastro, nel Tirreno e nel mare Adriatico. Proprio a largo della costa marchigiana peserese è avvenuta la più importante sequenza sismica del 2022, iniziata la mattina del 9 novembre con due terremoti di magnitudo 5.5 e 5.2 avvenuti a circa un minuto di distanza tra loro, risentiti in un'area molto vasta dell'Italia centro-settentrionale. Il numero totale di terremoti localizzati in Italia nel 2022 è di poco superiore a quello del 2021 e si mantiene stabile intorno ai 16.000 terremoti dal 2019, in calo rispetto agli anni 2016, 2017 e 2018, caratterizzati dalla sequenza sismica in Italia centrale, iniziata il 24 agosto del 2016. Il contributo di questa sequenza in termini di numero di eventi è comunque importante anche nel 2022, rappresentando circa il 30% del totale della sismicità registrata in Italia.